Siamo una scarpa décolleté con un plateau importante, molto comoda, nuovi colori disponibili, vediamo 4 differenti colori, nero, blu, questo deve essere considerato salvia probabilmente, grigio, tortora e grigio, 89 euro e 93 centesimi, le taglie sempre vanno dalla 35, mi piace perché è anche la 35. Assolutamente, abbiamo un sacco di clienti che ci richiedono continuamente, clienti con piedi 35, 42, per cortesia fateci dei bei modelli perché non ne troviamo in giro per i negozi. E questo a ogni vostro desiderio, Mattia, raccontami di questa scala. Una scarpa bellissima, con comunque un plateau. Questa scarpa qui è una décolleté con questa forma stondata, molto ben proporzionata. Karma è molto conosciuta per le sue décolleté in tutta Europa perché comunque è uno dei nostri punti forti, questa scarpa qui, perché abbiamo una tecnica costruttiva che la rende molto comoda, aderisce benissimo al piede, calza perfettamente, i materiali che scegliamo sono di primissima qualità ed è molto fashion perché abbiamo applicato questo tacco un po' più grosso che oltre a essere... Eccolo qua, lo vediamo indossato dalla modella. Esatto, bellissimo anche questo look, è un po' più aggressivo con il maculato, però anche molto bello il cappotto con il cappello, quindi veramente elegante. Molto trendy. Molto trendy, molto elegante, ma può essere anche una scarpa per tutti i giorni, per andare al lavoro, per essere messa con un taillère. Per quanto riguarda le taglie, tu mi consigliavi comunque, al di là della taglia corrispondente, quella 39 è 39, se abbiamo dei dubbi? Io punterei sempre a prendere un mezzo numero in più, perché comunque innanzitutto la scarpa è un po' più comoda e poi comunque ci si può sempre mettere una piccola suolettina che può adattare, esatto. Comunque ci misuriamo la pianta del piede e troveremo la taglia giusta. Questa è la versione grigia, vedi questa può essere adattissima anche a una misa di lavoro, io ho visto ad esempio Susanna che sta indossando una giacca, un pantalone che può essere un po' una misa di lavoro. Scusami, questa è la Tortora, che è la più scura, è un colore bellissimo perché è molto caldo, è un mix tra un grigio e una nuance marrone. Eccola qua, quella che ho in mano io. Esatto, è un colore perfetto per questa stagione qua, è molto facile di ordinare. Questo è il Tortora, allora vediamo, questo è il Tortora, questo è il grigio, ecco, così capiamo i colori bene, perché se dobbiamo scegliere, Mattia, questo è il blu cobalto. E poi c'è il nero, bello il blu, sai che è bellissimo questo blu qua? È uno dei miei colori preferiti, in questo momento abbiamo un'altissima richiesta di questa decoltè blu, perché è molto elegante, fa d'accessorio e come si dice, eye catcher, quando la indossi l'occhio non può non andare al piede e notare questa bellissima decoltè blu. Anche perché questo, a mio giudizio, questa linea così slancia il collo del piede, vero? Esatto, abbiamo creato uno scollo veramente ben proporzionato, che si sposa benissimo con la forma e slancia moltissimo il collo del piede, la caviglia e diciamo tutta la figura, anche il lato B. È vero. Anche noi donne teniamo questi dettagli. Ti volevo chiedere, quanto è alto il tacco? Il tacco, diciamo, è un tacco, otticamente è un tacco 8,5, però comunque abbiamo 2 cm di plateau, quindi diciamo sarebbe, siamo un'altezza reale di 7. Di 7, dunque la sensazione di camminare su un 7 cm. Poi anche questo tacco qui, diciamo, è nuovissimo e come potrete vedere dalle maggiori riviste, in questo momento la tendenza va su dei tacchi un pochino più grossi. Più comodi. Oltre ad essere molto comodo, è proprio molto fashion in questo momento. È molto richiesta in questo momento la decoltè con il tacco un pochino più importante, invece che il tacco a spillo classico, perché è proprio più versatile, più comodo chiaramente per camminare in città in tutte le occasioni e molto più stabile, ma molto più fashion. Ma io ho notato che la suola qua è zigrinata, cosa importante. Io mi sono rotto un piede con i tacchi, dunque immaginate che per me sia fondamentale. Si vuole la decoltè con questo tacco. Esatto, ve lo confesso, è un tacco a spillo. Ecco, bene, bene. Allora, intanto la suola è colorata con questo bellissimo rosa e chiaramente nella pianta abbiamo creato questo antiscivolo che aiuta proprio a mantenere l'aderenza, perché è molto importante quando si cammina sui tacchi. Questo me lo raccontano i miei clienti. È vero. Devono sentire che la scarpa aderisce bene al terreno e questo le aiuta a stare nel pieno comfort anche per tutta la giornata, perché è molto importante. Anche perché noi usciamo la mattina con la scarpa e magari la indossiamo e poi dopo andiamo fuori a cena, la teniamo tutto il giorno, la scarpa deve essere comoda, confortevole e soprattutto deve accompagnare il nostro modo di camminare, cioè non deve appesantire. Anche questa comunque è molto delicata a livello anche di peso. Sì, sì, molto leggera, calza perfettamente e quando una décolleté calza perfettamente è ben salda il piede e aderisce molto bene al terreno, è la décolleté perfetta per essere portata tutta la giornata. Certo. L'unico imbarazzo, sai Mattia, qual è il colore? Sono quattro bellissimi colori. Questo blu cobalto è incredibile. Poi c'è il nero classico, se abbiamo dei dubbi, però è vellutato alla sensazione. È pelle scamosciata, è sempre la nostra pelle scamosciata di primissima qualità, molto morbida, selezionata da noi. È bellissimo perché ha questo look molto elegante, un po' scrivente, diciamo. Ah, mi piace questo termine, scrivente. Passando la mano, proprio per vedere se una pelle scamosciata è di qualità o no, bisogna vedere se al passaggio con la mano resta il segno, cambia. Ah, non lo sapevo, provo sul colore tortora, eccolo qua, ma c'è anche il colore grigio, 101,743, 89 euro e 93 centesimi. Grazie. 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 Grazie.